Hey ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph E che stagione giochiamo a Roblox E oggi ragazzi abbiamo trovato una mappa davvero favolosa Perché è di Pokémon, sì, so che abbiamo provato diverse mappe di Pokémon su Roblox Ma questa è la più epica in assoluto Perché è basata sul gioco reale di Pokémon Ed è riprodotta davvero alla perfezione con un mondo tutto creato dagli sviluppatori Ed è fighissimo, cioè ne abbiamo visto giusto qualche immagine È fantastico ragazzi, ve ne innamorerete anche voi E quindi siamo pronti per iniziare a farla subito vedere Esattamente, sembra un lavoro di super qualità fatto come quello di Trilence Quindi potete già immaginarvi che cosa sarà Ma iniziamo subito Allora, siamo pronti insieme alla nostra avventura? Certo Ovviamente, siamo pronti Iniziamo una nuova partita Ci andiamo a precisare che anche questo, proprio come Trilence, costa 25 Robux per giocarci Semplicemente perché anche questo è in beta Ma è in alfa questo mi pare, addirittura è in alfa Forse in beta Boh, comunque quando uscirà, quando il gioco sarà pronto, diventerà gratis Ok? Questo credo sia un pochettino, un po' il mondo Cioè, stai iniziando a vedere come è creato il mondo Cioè, stiamo guardando le stesse cose Perché è bellissimo, è bellissimo Allora, questa sarà casa nostra Sarà casa nostra, sicuramente saremo a casa nostra Oh mio Dio Dai, 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 iniziamo subito che sono curiosa Non vedo l'ora, non vedo l'ora Oh, che cosa è che stiamo dormendo? Guarda come stacca la sveglia Sta sicuramente suonando, guarda Spegniti Quella sono io, vedi, uguale Uguale, uguale Io l'ho presa con l'uncino la sveglia Oh, aspetta Vediamo, ci siamo svegliati Ci siamo alzati Allora, non posso credere che questo giorno è finalmente arrivato Il giorno in cui diventeremo allenatori di poche Ti immaginerò nella vita reale Oh mio Dio Ti svegli e diventeremo a prenderti un pokemon per iniziare l'avventura No, allora, c'è la sveglia che io ovviamente lo faccio ogni mattina Ok Però per una cosa del genere non avrei direttamente dormito Cioè, avrei fatto tutta la notte in bianco non vedendo l'ora che arrivasse il momento Ok, infatti ci dice che prenderemo il nostro primo pokemon dal professore Oh mio Dio, non vedo l'ora Ho sempre sognato Ho detto di iniziare la mia avventura con i pokemon Comunque la storia è abbastanza simile ai classici pokemon ragazzi Quindi anche se lo vedete in inglese sinceramente non c'è niente di diverso Comunque Esattamente Dice che ci sono tantissimi pokemon nel mondo Non vedo l'ora di scoprirli Ma dobbiamo prima impostare la nostra carta dell'allenatore, giusto? Allora, per questa serie io mi chiamerò Steph Steph e Jeff Non posso? Fammi vedere Penso che puoi Se me lo prende così è magnifico Non so se ti prenderà la e-commerciale sinceramente Esatto Però io lascio offrire i nichi dai Possiamo iniziare, oh mio Dio, possiamo già uscire Ma ci possiamo già incontrare secondo te? Ci possiamo già incontrare? Credo di sì Ma la casa è fantastica Lo so, è fatta benissimo Ma sei matto Vieni fuori Secondo me adesso ci vediamo Oh mio Dio Cosa? C'è il quadro del mio pokemon preferito No, qualcuno mi sta salendo C'è un quadro di Ivi comunque Hai visto? A casa mia c'è anche il quadro del mio pokemon preferito Sono felicissima Ok, ok Adesso Ci sa se possiamo scendere Eccoci, eccoci Eccoci, eccoci Vabbè adesso stanno fermando anche me Quindi Allora Cosa vuole questo giovanotto? Questo qua credo sia nostro rivale Perché sto dicendo Non posso crederci che oggi prenderemo il nostro primo pokemon Finalmente il sogno che avevamo fino a quando eravamo piccoli Si sta avverando Io inizio ad andare nella strada del laboratorio Per prendere il mio pokemon Insomma ragazzi Le solite cose Io stavo notando che alla destra abbiamo il nome di tutte le persone dentro al server Ok Ti dice quanti pokemon del pokédex hanno fatto E noi zero E credo anche la medaglia che sono riusciti a conquistare delle palestre Perché ovviamente ci saranno il capo palestra da battere per farsi le varie medaglie Queste sono medaglie assolutamente Oh mio dio Bellissimo Allora Ok Adesso ci prendiamo due secondi per riflettere su questa mappa Perché è davvero epica e io non riesco a contenere la mia gioia Possiamo andare a prenderci almeno il primo pokemon No Dai Perché c'è una sorpresa anche quando sceglieremo il pokemon Lo sai? Ok È giunto il momento È ora di selezionare Che brutto il professore Si chiama Cypress Cypress È un po' brutto Allora è il nuovo professore di Mitistown Quindi la nostra città Ok quindi abitiamo a Mitistown Sì perché allora Che abbiamo detto che la storia è simile ai primi pokemon Però so che è una custom story Nel senso riadattata è fatta un po' diversa Esatto Quindi è normale che i nomi siano Ci sono anche mamma e papà che ci guardano Per questo momento importante Infatti ha detto che i nostri parenti hanno parlato di noi Genitori Genitori Sì perché sono molto molto felici Che noi stiamo per prendere il nostro primo pokemon Quindi sono voluti venire qui ad assistere insomma Ok Se ne potete andare Allora qua ci vuole spiegare che i pokemon crescono Si evolvono Combattono Imparano nuove abilità E questo lo sappiamo tutti Quindi muoviti a darci il nostro primo pokemon Dacci il pokemon Dacci il pokemon Ok 18 di... Hai letto? Allora Stai ferma E stai calma Hai... Ho letto 18 differenti scelte Esatto Tu puoi scegliere Perché tu tre 18 18 Tu puoi scegliere Tutte le generazioni dei pokemon Di starter E io Ti voglio dire immediatamente una cosa Io so già che tu sceglieresti Sindakill Perché è anche uno dei miei preferiti E me lo vuoi rubare Lo so Lo so Lo so La prima generazione è bellissima Ma Sindakill della seconda generazione Per me è imbattibile ragazzi È in assoluto il mio pokemon preferito di sempre 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 Quindi su Vieni da me Vieni e abbracciami Mi devi aiutare Allora Io non so chi scegliere Eh fammi vedere un pochettino Io li voglio tutti Pensa che neanche li ho guardati Io li voglio tutti Allora ok Ok Questi sono brutti Ma ce ne la stiamo giocando Pokemon X E se non ce la stiamo giocando Sì e sono brutti Sinceramente non piacciono No io guarda questo ce l'ho Nel Nintendo È bruttissimo È voluto Sì Io l'ho chiamato pure Polletto Polletto Ok Come il signor maialino Vai avanti La mia fantasia nei nomi è sempre Vai avanti perché sono davvero brutti Eccelsa Questi io non ci ho mai giocato Quindi non ricordo bene le evoluzioni La tartarughina è troppo carina Ma c'è la scimmietta Allora Allora mi dai un consiglio Ok Questo è un altro signor maialino però Oh mio dio Sei moralmente obbligata a sceglierlo Allora Io sono indecisa Tra la scimmietta Il maialino Cioè è per signor maialino Però non mi piace molto Sinceramente Esteticamente A te piace E mi piace un sacco questo E questo è bello Io voglio questo credo Voglio questo Ok Non lo so Come mettere in difficoltà Ferenichi Come faccio Pistole Spade No non c'è bisogno Basta metterle davanti Una scelta di Pokemon Allora Non so come sono evoluti È quello il problema E se poi sono brutti Perché ad esempio Il pulcino È carinissimo da piccolo Ma poi è voluto Esatto Fa proprio totalmente Allora Facciamo pausa due secondi Mi cerco l'evoluzione E poi scelgo Ok Mi dispiace per non scegliere Un altro signor maialino Ma siccome lui è il solo Unico e inimitabile Scelgo lui Scelgo lui Scelgo lui Ok È fantastico Fennekin Abbiamo anche il nome Abbiamo anche il nome simile È il nome simile Ferenichi Fennekin Hai visto? Questo sai perché Perché siamo anime gemelle Io lo sapevo Lo sapevo Che siamo anime gemelle Manco lo conoscevi di nome Siete anime gemelle Allora Perché non conosco Tutte le generazioni Non le ho giocate tutte Purtroppo Comunque Comunque volevo dire Che è fantastico Che puoi scegliere Tra qualsiasi Tarte È davvero Perché di solito Sei obbligato a scegliere Tra una generazione Invece Pokémon Oh mio Dio Oh mio Dio È anche meglio di un Pokémon Questo Perché almeno non abbiamo La mamma mi sta dicendo Che il mio Pokémon È carinissimo Anche a me l'ha detto Vedi i genitori Sono sempre gentilissimi Allora Qua ti devo mettere davanti A una scelta difficile Ok Ok Allora ci sta dando anche il Pokédex Che sappiamo tutti A cosa serve Ovviamente il professore Il Pokémon che troviamo Esatto Le prime cose che ti dà Giustamente Praticamente Se tu parli con David Chi è David? Quello a fianco al professore Quello sempre con la tutina Ok salve Signor David Signor David Ah ok Ok Hai capito? Ci dà un altro Pokémon Per 25 Robux Esattamente Dai no Evitiamo No Sai perché? Ok Allora Mi farebbe anche piacere Dare soldi agli sviluppatori Del gioco Perché sto scoprendo Che hanno fatto davvero Un lavoro fantastico Ok Questo ci tengo a precisarlo Ma preferisco Catturarli Ok Preferisco andare a cercare Assieme a te nel mondo Tanto poi penso che ci potremmo tornare E comprarli magari in futuro Sì esatto Quindi magari quando poi Finiamo il gioco Siamo lì vicini per finirlo No preferisco Ce li prendiamo così Comunque diamo una mano ai sviluppatori Perché ovviamente ragazzi Spendendo soldi In queste mappe Si danno i soldi A chi ha creato la mappa Quindi quando fanno un bel lavoro È bello supportarli No quando fanno un bel lavoro Davvero se lo meritano Perché comunque creare un videogioco Una mappa del genere Secondo me non è per niente semplice Il nostro rivale ci vuole si dare Allora Allora Guarda che Pokémon No aspetta Clicca È più carino Cioè adesso ammetto che lui Dici? Fennekin Non lo so Fennekin Che non mi ricordo più neanche mai il suo nome Ok Secondo me è più carino In ogni caso Perché stavamo parlando di Vivi Ma ragazzi Guardate che cosa hanno fatto Cioè questo qua È il gioco È stato fatto completamente da loro Abbiamo la schermata di combattimento Io sto già combattendo Ci sono animazioni C'è tutto È fatto troppo bene Cioè È meglio del gioco originale No 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 Guarda Per certi versi sì Per certi versi sì Lo sto trovando davvero fantastico Ed è anche meglio ovviamente Rispetto all'altro gioco di Roblox Esatto Project Pokémon Project Pokémon Che praticamente è considerato in tanti Abbiamo fatto Vabbè tra uno e l'altro Dai portiamo questo Che è fatto ancora meglio E cioè dai E vabbè qua probabilmente Ci sono persone Che sanno già creare Vedi giochi dietro Perché è davvero Davvero Vivi A me non muore Non so Niente a me ci sono due ore Guarda cliccando E non muore Non so che forse perdo Come perdi? Ma non c'è fai schifo Ho tre di vita Io ho vinto Ho vinto Ma come hai fatto a perdere Stiamo te due di fuoco Contro Eevee Mancava i colpi Io non ho perso Ho vinto Ho vinto Allora Che tanto si vede Io non ho perso un HP Quindi questo fa già capire Qual è il Pokémon più forte Perché io anche Signor Maialino Della mia parte Intanto sono di livello 6 Adesso È ovvio Allora ci ha curato il Pokémon 200 per aver vinto la battaglia E ci ha pure curato il Pokémon È stato carissimo Allora i nostri genitori hanno osservato la battaglia Ci sto dicendo che siamo stati molto bravi Sono fieri di noi Grazie mamma Grazie papà E sono felicissimi Che stiamo per diventare dei Pokémon trainer Vedi Dove danno l'ora di mandarci via di calza Secondo te Ok Ah ok Ho capito Praticamente cosa intendono Saranno sicuramente qualcosa Che hanno trovato i genitori Come archeologi E ce l'hanno trasformata In una collana Per noi Per il nostro viaggio Come regalo Quindi costruiremo questa collana Esatto Per ricordare l'amore È un lego Però dai È un reperto rarissimo Che i genitori hanno trovato E hanno trasformato in collana Solo per noi Apprezzalo Il nostro rivale è gentilissimo Ci ha appena regalato 5 Pokéball Per catturare Pokémon Vedi che ti dovevi chiamare puzzone Cioè non hai Guarda I rivali Non esiste Che ti regalano le cose Cioè è un rivale Un rivale Dovresti esserne felice Scusami Qua sono tutti gentili Guarda questo qua È tu Così proprio seduto qui Pierissimo A prendersi il fresco Nel ponticello Ciao Chi sei Chi sei Ah ok Ci può Ci cura i Pokémon Ci cura i Pokémon Buona sapersi Allora Buona fortuna Con la tua esperienza Quando vuoi curare i Pokémon Vieni da me Io ho trovato Il mio migliore amico Sì Sai cosa mi ha detto Non so perché Ma l'acqua mi ha sempre fatto paura Perché non sono tale bene Uguale a me Siamo già amici Sì Perfetto È il mio amico Abbiamo capito tutti e due Che non siamo portati Possiamo iniziare Sì 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 Ok Grazie Andiamo Quindi qui nell'erba Troveremo già qualcosa Esatto Route 1 Via Hai notato già Che quello sicuramente ci si Lo vedi lì Io ho trovato un Pokémon Oh mio dio Chi ho Pj 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 Il mio è di un livello più forte del tuo Ma no Ma no Allora Usiamo subito Amber per indebolirlo Speriamo di non ammazzarlo con un colpo No io uso Graffio Perché ho paura di ucciderlo con No ok ok Perfetto Allora No ho sbagliato tasto Allora Bag Pokéball Guarda anche l'animazione per tirare la Pokéball Aspetta poi la guardo anche nel mio Aspetta Non mi spoilerare le cose Eh scusami Ho sbagliato L'ho preso Bag L'ho preso Sì Preso Pj Vediamo Vediamo se lì lo prende Non trovavo le Pokéball scusa Ho avuto un pochettino di Attenzione Attenzione Ma dai Pj certo che lo prendo Bravissima Allora Perfetto Vuoi dare un nome a Pj No grazie Pj non mi interessa Sì No Lo chiamerò Ma che me lo vuoi chiamare Eh uccellino Però magari con due C Grazie Lo stavo chiamando con una C Ma no Ti dà pure l'exp quando li catturi Questa è una cosa degli ultimi Pokémon Perché nei primi Pokémon Quando catturavi un Pokémon Cos'è quella cosa bellissima? Cos'è quella cosa carinissima? Lo sto tirando Lo devo trovare anche io Stavi dicendo dell'esperienza? Sì Tu continua a parlare dell'esperienza Uh eccolo Trovato Il livello 2 La mia femminuzza e il tuo maschietto Esatto Oh mio Dio Dicevo che nei primi Pokémon Quando catturi un Pokémon Non ti dà exp per la battaglia Qui sì Come negli ultimi Pokémon E questa è una cosa fighissima Così capito Almeno Assolutamente Alieni anche un pochettino Il tuo Pokémon Allora Bag Speriamo che basti la vita Che gli ha fatto scendere Lanciamo la nostra Pokéball Su Bunnelby Io non lo conosco Bunnelby Bunnelby Bunnelb No io allora Bunnel qualcosa Cioè non conosco bene Tutte le generazioni di Pokémon Ma alcune sì Altre no Quindi questo non lo conosco Ad esempio Questo non lo conosco Preso E vabbè vedi Almeno così potremmo conoscere Un sacco di Pokémon Che ancora non conosciamo Ma te ne dà dei nomi a tutti? Coniglietto Ma che fantasia È terribile Livello 7 di Syndakill comunque Ma stendo Rimango tutto il giorno a girare Cioè Potremmo rimanere fermi Nello stesso cespuglio a vita Da quanti ce ne sono Cioè di solito Nello stesso cespuglio Trovi sempre gli stessi due Guarda quanti ne stiamo trovando Io rischio un Ember Potrei ammazzarlo No non lo uccidere È morto Non lo uccidere Ma come? Eh già Ma no l'hai uccisa Eh lo so Ma poverina È perché lo volevo far andare a basso Per catturarlo facilmente Eh l'ho capito Ma così finisce che lo uccidi Oh mio Dio Scusami Vediamo se trovo qualcosa di più carino No Di nuovo il coniglietto Allora È ora di affrontare Il nostro primo allenatore È rischiato anche tu vero? L'hai ucciso L'hai ucciso? Su andiamo Sto piangendo Sto piangendo tantissimo Vuoi ho fatto letto? Sì grazie Tieni Sono un allenatore terribile Ho ucciso un Pokémon Sono terribile Hanno rapito questo team Il team Eclipse Il team Eclipse I classici team rivali Esatto Hanno rapito i nostri genitori Probabilmente perché sono due archeologi E li vogliono sfruttare Per fare degli studi Sui Pokémon Sui Pokémon Vedi i nostri genitori Sono persone importanti Ma oh mio Dio Adesso li hanno rapiti Cosa dovremmo fare? Allora ci sta chiedendo Se li abbiamo fatto Se i nostri genitori Ci hanno fatto vedere Qualcosa del lavoro Di questa mattina In effetti ci hanno fatto vedere Quella caverna Oltre ad averci dato La collana Ok Allora ci sta dicendo Che non è sicuro Stare qua per noi Ci sta dicendo Di andare alla Cashmatown Che brutto nome Ok Quindi dobbiamo scappare Ok Che brutta cosa È terribile Cioè è tristissima Già Vabbè Curiamoci Pokémon E andiamo Ma se torniamo invece Nella caverna Ad esplorare Succederà qualcosa Evitiamo Ok Ci stanno dicendo Che è pericoloso Ma noi siamo persone Coraggio Ma ci hanno fatto tornare Qui per niente Scusami Già Dovemmo ripassare Già Oh mio Dio Dimmi che vedi Quello squirtor Fontana Oh mio Dio Dimmi che vedi Lasciaci in pace Stiamo guardando La città Ci devi lasciare in pace È un qualcosa di epico Credo che sia la persona Che Sì esatto Sì infatti Tu sei Ferenichi Ok Ci deve tenere sott'occhio Sa che cosa è successo I nostri genitori Dobbiamo seguirla Ok Io voglio vedere la città Antipatica Guarda nel mentre La fontana di Squirtle Quanto è fantastica Ti dico solo che c'è Starbucks Oh mio Dio Abbiamo qualcosa per ricordare C'è loro Sì abbiamo la bellissima collana No non te la facciamo vedere Allora sì La sto vedendo Dice che sembra vecchia Tutte queste cose Quindi vedi che la collana È qualcosa di strano Guarda che quelle Eh thanks Vuol dire che ce l'ha appena rubata Secondo me Sì dici Eh sì Aspetta che andiamo a picchiarla Ci ha rubato la collana Aspetta che andiamo a picchiarla Ci ha chiaramente rubato la collana Scusi No tu te ne devi andare Cioè stiamo Ci hanno rubato la collana Non so se c'ha Vedi Vedi Ci ha preso la collana Ci ha rubato la collana Quella lì Mamma mia Io non ci posso credere ragazzi Dovevamo Tenerla stretta Dato che era l'unico dono Che ci avevamo fatto I nostri genitori Che sono scompatti Vedi che era qualcosa di strano Ce l'ho fatta rubare come non so che cosa Ma non esiste Però aspetta Dice che è scappata nel bosco Appena fuori dalla città Ho visto Quindi possiamo seguirla Guarda la puntana di Squirtle Però un attimino Ti prego È fantastica questa città Quindi Siamo in questa città Il ponte è bloccato L'unica strada che possiamo percorrere È appunto Quella del bosco Dove Dovremmo cercare la tizia Che ci ha rubato la collana Disgraziata E direi che ci fermiamo così Per questo mini episodio Primo episodio Chiamiamolo come vogliamo Fateci sapere ovviamente Se volete una serie A noi piace tantissimo Quindi vorremmo tranquillamente Fare una mini serie Una serie Non so quanto Possa essere lunga Se è lungo una serie Perché assolutamente Io lo voglio finire Cioè è fantastico Mi piace addirittura Più di un Pokémon Che ormai alcuni risultano Anche vecchi da giocare L'hanno fatto davvero bene Ragazzi Ci hanno lavorato In futuro potremo scambiare Pokémon No ma qui Allora la cosa migliore Sai qual è Che ci possiamo giocare assieme Mentre invece Pokémon Non è online Ognuno gioca per i fatti suoi Qua incontri player Possiamo sfidarci poi tra di noi Che sarebbe epico Fare delle squadre Per sfidarci Cioè secondo me È fantastico Esattamente Per ragazzi Vi lascio così Se ci sono stati Ci un bel like Questa è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao